La narrazione cronologica attraverso le stagioni e le testimonianze individuali si alternano con riprese descrittive di un edificio di forte impatto visivo, nel suo totale e nei suoi dettagli, con momenti di lotta, con la presenza dalle controparti, Comune di Milano, Ministero dell'Ambiente, fino alla conclusione della vicenda. Le forme del reportage e dell'inchiesta che si intrecciano non sono però contaminate da cattivi esempi televisivi. Apprezzabile l'autoproduzione in rapporto a livello complessivo. Un intreccio fra reportage e inchiesta a livello dei migliori esempi. È un film, secondo me, molto ben costruito e con una capacità di raccontare la complessità della situazione del film, quindi della situazione sociale, culturale e politica, con uno sguardo che sa stare in equilibrio tra soggettività e racconto oggettivo. La cosa che più colpisce, al di là della denuncia di questo immobile, di questo palazzo foderato di amianto, che già questo è una cosa di denuncia molto forte, è un po' questo aspetto bello che si viene a creare, che è una specie di grandi famiglie allargate, cioè c'è un concetto di famiglie che si creano sulla necessità e che convivono insieme sui problemi, ma anche sull'affettività. E credo che questa è una cosa che nel documentario più che la denuncia esce fuori e questa è una cosa interessante. Le White rappresenta la casa come un dispositivo di morte, cioè il luogo del riparo diventa qui il luogo della contaminazione e il luogo della malattia. Questo bianco della casa d'amianto simboleggia appunto il colore del lutto. La regista documenta diverse stagioni della protesta degli abitanti e mette particolarmente in rilievo le figure femminile. Queste donne, queste madri anzi, che sono presentate come delle guerrigliere, sono delle guerrigliere meridionali in qualche modo, anche se il film è allentato al nord, vicino a Milano, però in uno dei quartieri dove le identità e le razze sono completamente mescolate e hanno come un denominatore comune che è quello della miseria. Il film ha una narrazione abbastanza disarticolata, senza un orientamento particolare. Direi che si dispone quasi in un frastagliamento orizzontale della documentazione dove è difficile che emerga, almeno secondo il mio giudizio, una politica o un'estetica precisa dello sguardo.